Prima di trasferirsi in Val di Bisenzio, Claudia Corrieri viveva a Iolo. Aveva sempre lavorato nelle palestre ed era molto conosciuta nell'ambiente. Un amore sconfinato per l'attività fisica, una passione coltivata fino a diventare una professione. Un paio di anni fa sboccia l'amore con Leonardo Santini e comincia la convivenza nell'appartamento di Via Lavagnini, alla Briglia, il piccolo centro della vallata dove lui ha sempre vissuto. La loro bambina nasce poco tempo dopo. Alcuni vicini di casa parlano di una famiglia apparentemente serena, altri riferiscono di un rapporto turbolento, di qualche lite che però non aveva mai fatto pensare che potesse accadere qualcosa di brutto. Ieri mattina l'ennesima discussione avrebbe avuto toni più accesi. Chissà se quando il cinquantenne ha portato la bambina a casa dei suoi genitori aveva già in mente di mettere una volta per tutte la parola fine alle incomprensioni con la compagna. Chissà se il litigio era già scoppiato prima ed è ripreso quando lui è rientrato a casa. Chissà se è stato un raptus a guidare la sua mano e chissà se aveva pianificato tutto, compresi quei 60 chilometri in macchina fino al ponte sospeso di San Marcello Pistoiese, già altre volte teatro di suicidi, un salto nel vuoto da cui mai nessuno è uscito vivo. Tanti messaggi di cordoglio sulla pagina Facebook di Claudia Corrieri, cuori, lacrime, pensieri e ricordare una donna buona, gentile, sorridente. Nessuna parola è in grado di raccontare il dolore, lo strazio della madre che ieri sera si è aggrappata al cancello che sbarra la strada fino alla casa in cui Claudia abitava, a sorreggerla parenti e amici. Chiuse porte e finestre in via Lavagnini, nessun capannello si è formato, nessun curioso si è avvicinato per chiedere il motivo di tutte quelle macchine dei carabinieri o per aggiungere qualcosa a una tragedia troppo grande per tutti. Tra i primi ad arrivare il sindaco di Vaiano. Ci ha lasciato tutti senza fiato perché è una cosa che nessuno di noi si aspettava, non avevamo nessun segnale per il monitore da questa situazione, per cui devo dire che quando sono stato allertato ci è cascato il mondo addosso. Grazie. Grazie.